Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove in direzione Genova si segnalano 9 km di coda tra Massa e Sarzana, a partire dal km 106. Sempre in A12 è Pisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e la 12. In A1 verso Bologna per incidente al km 414, 9 km di coda tra Orvieto e Chiusi e altri 3 km di coda più avanti tra Fabro e Chiusi. Verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta. Si ricorda che è stato indetto per oggi uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Autolinea Toscana ha comunicato che lo sciopero riguarda le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!